Oltre 18 milioni di beni immobili e terreni in vendita è quanto ammonta il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari decisi dalla provincia di Cremona per il triennio 2016-2018. L'ente di Corso Vittorio Emanuele si spoglia degli ultimi suoi gioielli, una sorte che per alcuni era conosciuta da tempo. È il caso del complesso alberghiero di Toscolano Maderno, messo all'asta con un primo bando ad un valore di oltre 13 milioni di euro, ma che la provincia non è mai riuscita a vendere. Non ci si arrende e lo si ripropone alla cifra di 10 milioni e 322 mila euro. Nell'elenco dei beni immobili, dove la fanno da padrone numerose case e cantonieri, rientra anche la ex chiesa di San Vitale di Via Altobello Melone, utilizzata come sala convegni, il cui valore di vendita è stato stimato in 2 milioni e 267 mila euro. E infine il complesso ex sanatori di Borno, che costa 2 milioni e 295 mila euro. A completare il quadro delle alienazioni ci sono poi terreni, boschi misti, seminativi rigue e pioppeti che da soli valgono complessivamente 2 milioni e 704 mila euro. Un'operazione complessa, quella avviata dall'amministrazione guidata dal presidente Carlo Vezzini, che mira ad alleggerire l'ente e a introitare risorse, visto il grave periodo di vacche magre, dovuto ai tagli della ormai famigerata riforma del Rio.